Prevenzione di genere, una medicina a misura della donna, è il titolo del convegno promosso a Palazzo Lascaris da Consulta Femminile con FAPI Piemonte e Fondazione Medicina a Misura di Donna. Nell'incontro sono stati analizzati, anche dal punto di vista di una corretta educazione e comunicazione, gli aspetti legati a una medicina a misura di donna e l'influenza che questa esercita su qualità della vita e spesa sanitaria. La Consulta Regionale Femminile è orgogliosa di accompagnare con FAPI e la Fondazione di Medicina di Genere su questo progetto, un progetto dal titolo Medicina di Genere. Medicina di Genere che non è medicina di donna, ma è quella medicina che cerca di prevenire le patologie che hanno evidenti differenze tra gli uomini e le donne. Impareremo tante cose, soprattutto come prevenire e vivere meglio la nostra qualità di vita da una certa età in su, quando ci dicono che le donne vivono più degli uomini, ma non sappiamo bene in che modo e che cosa dobbiamo fare per vivere bene.